Da domani a domenica si terrà a Pescara, a Villa dei Risis, la prima festa nazionale di sinistra italiana. Un appuntamento importante, Melilla. Sì, noi abbiamo l'ambizione di raccogliere la grande tradizione democratica delle feste dell'unità e quindi vogliamo garantire che questa tradizione vada avanti e questa festa vuole mettere a confronto, come si faceva nelle feste nazionali dell'unità, tesi diverse, sviluppare un dialogo tra le forze politiche, quindi ricollocarsi a quel filone che il Partito Comunista italiano aveva saputo coltivare, quello della curiosità, quello dell'apertura ad altre tesi, quello della partecipazione politica dei cittadini, perché noi riteniamo che senza la partecipazione politica, senza i partiti organizzati, non ci sia la possibilità di cambiare le cose in meglio nel nostro paese. Quindi la festa ha anche questo obiettivo politico, favorire la partecipazione dei cittadini. A proposito di sinistra italiana, Melilla, a Pescara, in Consiglio Comunale, non ci sarà più SEL, ma bensì sinistra italiana. Noi stiamo superando Sinistra Ecologia e Libertà, aprendoci, allargandoci, mettendo a disposizione la forza modesta, ma significativa, che rappresentevamo, e come abbiamo fatto al Parlamento, in cui abbiamo sciolto il gruppo di SEL e dato vita a Sinistra Italiana. Anche qui al Consiglio Comunale di Pescara si chiude la storia di SEL e nasce quella di Sinistra Italiana. Ci auguriamo che personalità di altri partiti, di altri movimenti, di altre forze sociali, indipendenti, possano scegliere Sinistra Italiana come terreno su cui sviluppare un'azione politica.